e potevo io non acquistare il nuovo floyd ma assolutamente no eccolo qui il nuovo floyd by martelli uno spettacolo a livello visivo molto molto bello mi piace tanto la grafica mi piace tanto la palette colori che hanno utilizzato l'etichetta è in carta quindi non un adesivo plastico non una serigrafia ma carta che avvolge tutta la bottiglia come vedete sembra quasi un liquore sembra una bottiglia di whisky stupendo classica illustrazione vintage sul davanti con un po di storia qui aftershave scritto qui the genuine floyd dal 1932 e la riserva uv lucida sulla scritta floyd come vedete fa questo gioco di lucido su opaco una tecnica di nobilitazione grafica molto interessante già da qualche anno insomma la vedete in giro forse non sapevate che si chiama riserva uv sul retro c'è l'indicazione chiaramente di floyd qui invece opaco su opaco con l'inci tutto quello che c'è da sapere insomma quanto ce n'è chi produce sul lato oltre al codice barre e le varie icone di infiammabile e del pao troviamo anche le indicazioni per lo smaltimento consapevole quindi per la boccia andiamo al vetro e per la per il tappo andiamo alla plastica è ovvio bene modo d'uso applicare dopo la rasatura versando il prodotto sulle mani e massaggiando fino al completo assorbimento oppure spruzzare tramite il vaporizzatore floyd devo comprare quello vintage da mettere qua io direi di sì profumazione mi sembra leggermente diversa rispetto a questa che trovo essere un po più pungente sul mentolo questa forse un po meno apro così perché perde questo questo spruzzatore perde quindi per non far casino meglio così la fragranza è lievemente diversa la colorazione questo è molto ambrato perché qui ho luce calda quindi può essere anche che mi falsi un pochino però anche il colorante è cambiato poi vi dirò qui ho l'inci del vecchio floyd cioè del floyd distribuito da martelli ultimamente ve lo faccio vedere se volete fare uno uno screenshot eccolo qui speriamo si legga tutto ok proviamo anche a fare lo screenshot di quest'altro o il fermo immagine se preferite di quest'altro anche se non so se metterà a fuoco perfettamente perché la scritta è molto piccola però ne parliamo insieme in questo distribuito in questi giorni nelle grandi distribuzioni troviamo acqua alcol denaturato glicerina profumo limonene comarin benzil silicate benzil benzoate linalol eccetera eccetera poi sono tutta una serie di componenti idroxy citronella benzil cinnamate eccetera eccetera quindi in fondo troviamo alcol mentolo peg 40 olio di ricino idrogenato acido citrico solium cloride eccetera eccetera e i coloranti coloranti giallo 5 e blu 2 qui abbiamo acqua alcol denaturato glicerina peg 40 subito olio di ricino idrogenato profumo l'olio di ricino nell'altro era sotto quindi qui è aumentato mentolo poi olio officinale di rosmarino estratto dalle foglie timo estratto da fiori e foglie lavanda estratta dai fiori salvia officinale estratta dalle foglie aceto poi benzil alcol linalol benzil benzoate comarin limonene benzil silicate insomma un po come la parte poi bassa dell'inci anche di quest'altro vediamo se c'è qualcos'altro nel frattempo credo che sia pressa poco poi a un certo punto lo stesso tranne alcuni altri componenti in fondo coloranti giallo 6 rosso 33 e blu 1 quindi anche la colorazione è cambiata di poco chiaramente bisognerebbe avere uno spettrofotometro per capire come come è cambiata può essere anche che abbiano dovuto suppongo e abbiamo dovuto correggere la colorazione per via dell'aggiunta delle componenti perché non so se quelle componenti aggiunte ovvero questi oli officinali alterino la colorazione del prodotto ma come avete visto dalla mia dal mio elenco che vi ho fatto ci sono diversi componenti molto interessanti che sono pressoché tutti i lenitivi la lavanda la salvia che io utilizzo in forma di idrolato quindi di distillato da spremitura fredda delle foglie quindi io lo utilizzo tutti i giorni praticamente trovarmi anche l'estratto di salvia all'interno del floyd mi fa ben sperare in una piccola parte di azione lenitiva per la pelle poi il timo il rosmarino insomma tutte componenti che assolvono a un compito ben preciso cioè quello di agire contro le eventuali irritazioni o comunque la sebo regolazione anche la salvia fa quello quindi insomma la formula è cambiata ma era dichiarata questa cosa non dovevo dirvela io che è cambiata e l'hanno dichiarata la promozione la sento un pochino più dolce quindi questo mi è un pochino più pungente questo è un po più dolce però siamo lì insomma è quella la fragranza ok il mentolo in alto sicuramente lo renderà molto fresco ora chiaramente non posso dirvi se questa cosa è vera ma devo assolutamente verificare su su di me a rasatura compiuta non lo userò domani ma lo userò la prossima settimana perché nel frattempo voglio ordinare lo spruzzatore vintage ok quello che ho anche sul floyd blu così ce lo sia qui che sul blu e se un domani questo sarà anche blu prenderò quello e lo metterò sul blu nel frattempo quello lì me lo me lo godo sapete che lo utilizzo è anche abbastanza con grande gioia e voga voga foga magari no voga vinsero battaglie grazie alla loro foga è chiaro il monte premi invece l'eterna gloria grazie signor giancarlo grazie per tutto ciò che ci hai regalato quindi parere personale da appassionato quindi in realtà parere totalmente così totalmente di parte graficamente uno spettacolo di prodotto graficamente un grande lavoro complimenti alla ludovico martelli questo sul bancone sulla postazione di un barbiere vintage dal look vintage sta benissimo e secondo me questa è stata la mossa intelligente della ludovico martelli ma sta bene anche in casa nostra e sta bene anche nella grande distribuzione perché no detto ciò ragazzi vi lascio il link in descrizione link affiliato per l'acquisto se volete utilizzandolo mi date una piccola mano per poter acquistare ogni tanto qualche prodotto che poi vi porto in video e che mi suscita un po di curiosità perché io faccio così quindi se avete piacere usate il link in descrizione altrimenti fate come vi pare nessun problema io vi auguro naturalmente un buon proseguimento fate i bravi come sempre ci vediamo al prossimo video di rasatura ovviamente per ora è tutto ciao da manuel e da mirado di rato